C'è pena stasera guardarsi la partita dell'Italia? Non lo so, che ne dite voi? Ragazzi, ben tornati, come state? Noi bene, voi? Stasera l'Italia, gente. Contro la Turchia giochiamo, Turchia-Italia. Noi siamo molto preparati per sta partita. Un'amichevole che volevano noi andare al mondiale. Tanto oggi faremo questa amichevole, vero? Sì. Ragazzi, però, come ha detto Thomas, sì, questa è un'amichevole, così perché ormai mondiali li abbiamo salutati. Ciao, ciao. Pazienza. Potevamo pensarci prima. E quindi stasera si giocherà questa amichevole. Non ci saranno Florenzi, perché Florenzi, Berardi, Insigni e Immobile che sono già tornati nelle proprie squadre, insomma, per dire Florenzi è tornato al Milan, ecco, così. Perché se fa... Florenzi, ragazzi, vi dico, che si era fatto male nelle parti sotto, non tipo il braccio, si è fatto nelle parti sotto male. o se mi ricordo bene il ginocchio, se si era fatto male lì, o... però sempre parti lì. Noi stasera giochiamo, speriamo bene, no, Kevin? Eh sì, speriamo. Ebbene, andiamo a parlare di una bellissima... notizia... Notizia. Notizia. A proposito di nazionali, c'è stata anche una notizia che torna e fa gol un giocatore della Danimarca, Christian Eriksen. Eh sì, ragazzi, purtroppo quel giorno, il 12 giugno del 2021 che è arrivata questa notizia che diceva che Eriksen era morto, e io quindi sono rimasta così, per dire, come? È morto. Poi alla fine, per fortuna, si è ripreso, per un po' di tempo è stato fuori, poi piano piano sta cercando di ritornare, e Ieri è arrivata questa notizia e colui ha fatto gol. Kevin, ma Eriksen si è ripreso grazie ad un altro giocatore nostro, un giocatore nostro. Ma è vero, Simon Kear. Cioè, non è che... Insomma, Kear è riuscito, in qualche modo ha cercato di aiutarlo, in tutto, poi i dottori, poi l'hanno aiutato sempre i dottori. È stato bravo, ieri ha fatto un gran gol a Eriksen, l'ho visto io sotto al 7 l'ha messa, perché ha fatto un bellissimo gol, o l'altro ieri hanno giocato, o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Ha fatto un bellissimo gol, ha perso la Danimarca, 4-2, con due gol in meno ha vinto... Una domanda così, quanto ti ha giocato la Danimarca? Olanda. Ok. Olanda, di De Pei, di Memphis, De Pei e di De Ligt e Van Dijk. Ok. Ma ragazzi, stasera a parte l'Italia giocherà anche Portogallo-Macedonia. Che cosa farà stasera CR7, secondo te Thomas? Farà qualcosa, farà qualche gol perché lui, anche se ora è passato ai mondiali, almeno credo, si è passato ai mondiali. Ronaldo, ragazzi, non è uno che ora che devo giocare contro le altre squadre e non faccio gol. No, invece lui vuole sempre fare gol, non è vero? Sì, è vero. Cioè, ogni volta dove va, fa gol. Invece, secondo me, Thomas, il Portogallo stasera vince. Sì, credo, perché secondo me vince sicuramente, però non lo so. Ragazzi, noi in quest'ora potevamo già essere contro il Portogallo. Poi, se perdevamo, pazienza. Ma intanto ci abbiamo provato. Cioè, però, intanto perdere contro la Macedonia, ragazzi. Ancora non ci credo come abbiamo fatto a perdere contro la Macedonia. Ragazzi, dopo questa parentesi del Portogallo, di Ronaldo, andiamo anche con un altro giocatore del Milan, Ibra Imovic. Gioca stasera contro la Svezia. Cioè, contro la Polonia. Eh sì, sono confuso. Vabbè, non fa niente. Contro la Polonia, dire Vandowski, come sappiamo. Oggi ho sentito anche su Sport Mediaset, però, che parte dalla panchina. Quindi, Ibra giocherà nel secondo tempo, forse. Se lo vuole, se lo mette il mister. O se no, non gioca per niente. Perché il primo tempo hanno detto out, quindi no. Però nel secondo vedremo. E Thomas, se io voglio farti una domanda sempre su questo. Sì, sì. Secondo te come potrà finire la Svezia-Polonia? Un pareggio. Uno pari. Perché sono forti entrambe allo stesso livello. Per me finisce così, con i gol. Ti posso dire gol? Certo. Vince la Polonia prima, con il gol di Lewandowski. E poi c'è la Svezia con il gol di Ibrahimović. Con Luzeski, anche se gioca anche con Luzeski. Con il Venezia e... Venezia. Svezia. Però credo che non fa gol. Tu invece che dici? Allora, secondo me, Thomas... Ci ho pensato e secondo me vince la Svezia. Non gol di Ibrahimović. Forse qualche gol lo farà. Non lo so. E poi penso che segnerà, non lo so, se giocano uno di nome Forsberg. Ah, sì, sì, sì. E un altro di nome Berg. Berg e Forsberg. E ragazzi, secondo me segna anche Yarmolenko. Ah, sì. Conosco tutte e tre. Li conosco, eh. Sai dove gioca Yarmolenko, Thomas? E... No? Ok. Ok, ok. Però non hai sentito parlare. Sì, sì, sì. Li conosco tutte e tre. Perché li ho conosciuti con lo speciale stesso. Però non ho capito dove giocano questi tre. Perché io lo so che conosco solo Ibrahimović, Kuluseski. Eh, vabbè, quello è normale. Lewandowski della Polonia. Ragazzi, ok. Questa è la parentesi, quello... Ragazzi, io non... Noi non possiamo darvi dei... Adesso calciomercato del Milan. Non vi possiamo dare dei nomi, dei nomi. Perché, cioè, ogni giorno se ne dicono tantissimi. Certo. Eh, infatti. E invece ieri ho sentito Bernardeschi. Mamma mia, ragazzi, mi sto sentendo male. No, male. Malissimo io. E infatti. Cioè, Bernardeschi, ragazzi, mamma mia. Peggio mi sento. Ma che infatti... Poi non gioca la Juventus, ragazzi. Eh, lo so, Massimo. La mette sempre in panchina. Però, non so, dici che se ne andrà. Però, mamma mia, ma... Che mi dicono Bernardeschi a Mila. Mamma mia. Peggio mi sento. Mamma mia, pure io. Mi sento male. Vabbè. Ok, ragazzi. Per oggi noi abbiamo finito. Concludiamo sempre con i nostri due motti. Però, in particolare uno, visto che stasera gioca l'Italia, che è Forza Italia, Forza Sandrino Tonali e Forza il Gallo Velotti. Poi, il secondo è Forza Milan e Abbasso i Gufi. Il secondo è Forza Lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao. Iscrivetevi, ragazzi. Ciao. 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 Ciao.